Matteo Grandi, intanto a meno di una settimana da quell'impresa di domenica scorsa come stai? Sicuramente sono contento, sono triste di come sono date le cose, però sono già concentrato perché quello che è stato è stato, ora si pensa già alla nuova partita e a far bene. Io non sono convinta che il Como sia favorito, devo dire la verità. Si gioca almeno alla pari, ma fisicamente finora avete dimostrato intanto di non sentire la fatica. Sicuramente stiamo bene fisicamente, sarà una gran bella partita contro due squadre che sicuramente stanno facendo molto bene. Lasciamoglielo credere che magari sono i favoriti e poi magari gli facciamo la sorpresa. Cosa ti preoccupa di più di questa doppia sfida? Preoccupa nulla sostanzialmente, noi siamo consapevoli che loro sono una buona squadra, hanno molto entusiasmo perché anche loro sapevano di arrivare a questo punto e quindi forse il loro entusiasmo ci preoccupa, bisogna stare attenti alla loro euforia. Per quel che ti riguarda e per la tua prestazione personale adesso cosa puoi fare di più? Ma io non è che voglio fare di più, io voglio dare il mio contributo alla squadra ogni domenica facendo quello che mi chiede il mister senza, non bisogna strafare perché è proprio lì che rischi di commettere l'errore. Grazie.